Voce di pioggia su di noi, quante ne sono cadute oggi di voce sulle nostre teste e su quelle dei tifosi e se continua così ne cadranno ancora di più su quelle dei giocatori questo pomeriggio speriamo che questo non pregiudichi lo spettacolo, né la voglia di correre dei 22 in campo staremo a vedere, nel frattempo il pubblico continua a intonare gli inni anche se dal cielo la musica non pare proprio intenzionata a cambiare che spettacolo incredibile qui all'estadio Tregale, uno degli stati più importanti del Portogallo secondo le indiscrezioni del pre partita si disporranno in campo con il 4-5-1 l'unico uomo in attacca è chiamato a una gara di sostanza dovrà farsi carico quasi da solo della manovra offensiva dei suoi mantenere palla, far salire la squadra poi dipende da come si evolverà la gara Fabio ma credo che vedremo almeno uno o due centrocampisti partecipare di più in fase d'attacco tutto pronto? La sfida può avere inizio una domanda al volo Luca qual è il giocatore chiave di questa partita? credo che Dzeko meriti una menzione speciale è un grande goleador e sa anche creare occasioni per i compagni inoltre ha una grande dote va sempre a segno nelle occasioni importanti e questo è un valore aggiunto incredibile è difficile darti torto queste sono le partite in cui si esalta ecco un'occasione di contropiede prova la soluzione in fascia Medel Clivert scatta verso il pallone il Ligrini riceve un bel pallone se ne va la palla entra in aria da X e abbiamo già superato il quindicesimo si poteva immaginare che questa fosse una partita tale no Alasio Sansone cerca di sfruttare gli spazi laterali la mette dentro si fa trovare al posto giusto e allontana Veretout Dzeko a sinistra con il passaggio Clivert cerca un compagno libero Kolarov attentato l'azione personale conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi magari ci riproverà ancora spazza il più lontano possibile può crossare in aria alla peggio nello scontro di forza la Roma al calcio di punizione beh qui l'è andata bene poteva essere punito con il cartellino e va a colpire di testa ci arriva di nuovo piuttosto sfortunato qui però il pallone è uscito di nulla la conclusione è uscita peccato almeno avrebbe potuto impegnare il portiere decidono di giocarlo all'indietro la loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area è una strategia efficace ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco può essere una soluzione per i minuti finali quando cerchi il gol disperatamente ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi per puntare gli avversari per creare spazio al centro per gli inserimenti non puoi rischiare di diventare monotono e prevedibile andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando inutile è vero Luca sono d'accordissimo con te bisogna cantare con me Mancini di forza Mkhitaryan alza la palla in profondità verso un compagno ecco che parte il cross Medel riconquista la palla l'arena è calcio in punizione finisce sul referco dell'arbitro con una munizione e sembra che si uscita un po' malcuncio dal contrasto spazio e questa era l'ultima azione del primo tempo tutti a premere il tecnico nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte inizia adesso il secondo tempo la Roma ha giocato meglio nel complesso fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara c'è anche da dire però che hanno sprecato troppo non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create palla filtrate per Gieco allontano il pallone hanno già riconquistato palla dei retù Medel Orsolini cercano l'azione veloce Fazio Kluivert Cristante Veretù Scodella in avanti Lunga, lunga, lunga troppo lunga Cerca l'uomo là davanti prova a scavalcare la difesa con il pallonetto si libera della palla ed evita complicazioni Pellegrini Pellegrini ha visto partire il pallone si è proposto anche bene ma poi non è riuscito a fare niente tutte e due le squadre hanno optato per il cambio una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte Palla a Mkhitaryan Cerca di lanciare il compagno Può stenta la conclusione è in sacca no una conclusione assolutamente imparabile ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare Si riparte dall'1 a 0 Sono in vantaggio ma c'è ancora tempo la partita rimane aperta Lungo passaggio in avanti Poli Il Bologna al calcio di punizione L'arbitro va comunque a dirgli due parole Ecco la rispunta del portiere Devono riprovarci Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita Non hanno altra scelta Devono buttarsi in avanti Proprio così Due sostituzioni in rapida successione In effetti non ne aveva più L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo Cristante Il pallone arriva a G Cieco Miracolo di Skolupski vicinissimi al gol del 2 a 0 L'intervento strepitoso Subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione Cercherà di metterla in mezzo Quest'errore potrebbe essere il tiro di Cristante Insomma Qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta Bani Alza la testa La ricerca di un compagno in avanti Kluivert Contrasto molto deciso Recupera il pallone in scivolata Lardino dice che si può proseguire Ottima pressione la sua Palla recuperata Devono cercare di essere più concreti Se vogliono recuperare Opta per il lancio lungo Palla filtrate per Gieco Pastore Sulla destra Nikita Rian Siamo in pieno recupero Non manca molto alla fine La Roma Aspetta solo il trebice fischio dell'arbitro Da X Palasio Si allunga per arrivare al pallone E c'è il boato del pubblico Si chiude la sfida Triplice fischio dell'arbitro Uno scontro combattutissimo Ma alla fine Lago della bilancia È l'unico gol segnato Ci hanno messo tutto il primo tempo A prendere le misure agli avversari Ma nella seconda metà della gara Hanno colpito La società è molto piùbiesca Però anche in mezzo è molto più In mezzo è molto più Che è molto più